E' sabato, sabato 26 di maggio, buongiorno e benvenuti come sempre alla rassegna stampa breve di video 33, informazione per quanto riguarda i quotidiani locali e nazionali, ma prima andiamo a vedere qual è la situazione del meteo, cielo sereno, l'immagine a conferma di ciò ci arriva da solda, vediamo ancora neve in montagna, però appunto il cielo sereno e così dovrebbe rimanere per gran parte della giornata, chiediamo conferma nel merito all'ufficio meteo della provincia, si vede già dalla grafica, il sole sarà presente nel mattino, poi durante le ore più calde inizieranno a esserci nubi e possibilità di rovesci, temperature massime tra i 23 e i 29 gradi, praticamente situazione identica, fotocopia per quanto riguarda il Trentino, prevalentemente soleggiato, poi brevi rovesci sparsi nel pomeriggio, le minime, lieve aumento, massime invece in lieve calo e venti deboli. Adesso andiamo a vedere quelle che sono le aperture appunto dei quotidiani, partiamo con l'Alto Adige, schianto mortale in moto, incidente ad obbiaco, 22enne contro un furgoncino, fotonotizia invece dedicata all'Asso Imprenditori, all'Assemblea, Asso Imprenditori che dicono non cambiare le regole ad ogni nuovo governo. Andiamo a vedere adesso la prima pagina del Corriere dell'Alto Adige, boccia, avverte, tir, no ai blocchi, l'Unione Europea va a difesa, il Presidente di Confindustria, siete virtuosi. La foto invece è dedicata ai nuovi cassonetti, ci arriva dal quartiere Don Bosco, isole ecologiche, cassonetti, SEAB, anti, piromani. Andiamo a vedere adesso l'informazione del vicino Trentino con il quotidiano L'Adige, apertura dedicata al fisco, Inis, conto da 100 milioni, il 18 giugno scade, la prima rata in oltre 100 comuni. La foto è dedicata al basket, all'impresa, anzi al colpaccio, come dice l'Adige dell'Aquila, vittoria a Venezia trascinata da Seals. Per quanto riguarda l'apertura del quotidiano Trentino, si parla di cronaca, l'evasione del commercialista denunciato con un professionista per fatture false per 1,7 milioni. Grandissima Aquila, l'immagine è quella dedicata appunto al basket, vince subito a Venezia. Semifinale, Scudetto, gara 1. Informazione in lingua tedesca, vediamo l'apertura del quotidiano Taggezeitung, che ci parla di follia luminosa, si tratta del progetto per il nuovo giardino Vescovile, nonostante le proteste, Arno Comparcio è pronto a firmare. Vediamo l'apertura del quotidiano Dolomiten dedicata agli incidenti con le bici, secondo una statistica, negli ultimi dieci anni sarebbero aumentati, mentre in Consiglio provinciale, nonostante le richieste all'ordine del giorno di numerosi consiglieri, moltissime non vanno più a punto discusse, visto che siamo a fine legislatura. Andiamo all'informazione nazionale del Corriere della Sera, che apre naturalmente con la politica, la crisi, governo Salvini pronto a rompere, Conte al colle, ma nessun passa avanti sul nome di Savona. Lo spread sfonda quota 200 punti, avvertimento di Möds, l'agenzia di Rating. Per quanto riguarda invece il sole 24 ore, sostanzialmente si parla anche qui della problematica della formazione del nuovo governo, l'istabilità scuote i mercati, lo spread vola, quota 215, rischio politico riscatati 380 milioni da fondi azionari. Staremo a vedere, staremo a vedere come finirà la partita dedicata appunto al governo, ma noi invece andiamo adesso a guardare quelli che sono gli appuntamenti da non perdere. Oggi e domani Alpe di Susi, Cavalcata, Oswald von Wolkenstein. E oggi e domani, in questo caso a Burgusio, festa per i 200 anni della Music Cappelle. Oggi all'ANA Open Air Gaul. Il 2 giugno invece si corre la Hortler Bike Marathon. Dall'8 al 10 di giugno, all-timer, ottavo premio della montagna Nalles Sirmiano. Ed è davvero tutto e a me non resta altro naturalmente che augurarvi un sereno sabato.